L'artista esistenzialista, buonasera da tutti, una quartina della serata che è una quartina molto riflessiva, molto profonda, accurata, ponderata e quant'altro, quindi c'è una attentività e una riflessione profonda rispetto al periodo pasquale, quindi alla prospettica futura, ai nostri comportamenti e quant'altro, diciamo un focus, un imprinting specifico a ciò che noi siamo, come siamo, alle prospettive future e quant'altro. Signore, permettici di guardare oltre i nostri tristi peccati carnali, dobbiamo quantomeno provare a non rimanere perennemente incollati a quei primordiali ed insulti istinti, di ridicoli e compiaciuti animali. La cruce è un simbolo ma anche un segno per qualsiasi pecora smerrita, quante volte vorrei il tuo muro infinito mi si stampasse dentro invece di scivolarmi continuamente tra le unte e bisunte dita, quindi un finale un po' accurato, approvocatorio, riflessivo, profondo e quant'altro, quindi abbastanza spiccoloso e sferzante, ma anche dettato da una profonda riflessione su noi stessi. Il Signore, diciamo dall'alto di quella croce, ci permette di guardare oltre, ci dà la possibilità di guardare oltre, perché poi quello stato sofferenziale ci deve essere da monito per prendere atto di quelli che sono i nostri peccati carnali, i nostri mestri peccati carnali e quindi bisogna un attimino guardare oltre, guardare al di là della montagna. Dobbiamo provare a non rimanere incollati perennemente in modo reinterato ai nostri istinti primordiali di animali compiaciuti, perché poi l'animale fondamentalmente ha un istinto ed è fine a se stesso. Noi siamo, secondo me, degli esseri spirituali e quindi dobbiamo anche provare amore, ma in un certo modo. La croce, la croce linea è un simbolo, è un simbolo, diciamo, di ricerca interiore e quant'altro, ma anche un segno, un segno di sofferenza e un segno specifico, perché tramite quel simbolo e quel segno riusciamo un pochettino poi a comprendere tanti piccoli aspetti che ci sono poco chiari in un periodo come questo, laddove, ripeto, vanno fatte delle producioni abbastanza accurate. Ci sono le pecore smarrite, siamo tutte pecore smarrite, siamo tutti in perenne ricerca di noi stessi, perché tante volte poi la strada maestra la perdiamo, per tante motivazioni, perché la ricerca non è quella giusta, perché abbiamo dei deficit comunicativi, abbiamo uno scheletro comportamentale un po' fragile, e quant'altro fate voi. Vorrei tanto che il tuo amore, il tuo amore infinito, il provare amore verso chiunque, il prossimo, le pietre, gli alberi a livello, diciamo, infinitesimale a 360 gradi, mi entrasse dentro, mi si stampasse dentro, cosa che è difficile, non è facile, bisogna un attimino crederci tanto, invece che mi scivolasse sempre tra le dita, perché come se queste dita fossero unte e bisunte anche dal peccato, che non è soltanto un peccato carnale, delle volte anche un peccato, diciamo, mnemonico, è un peccato magari a livello interiorizzato, spirituale e quant'altro, e quindi, ripeto, tante volte è complicato e difficile, perché siamo esseri imperfetti, dobbiamo rimanere allineati alla strada maestra, ripeto, a quella bussola, che è una bussola divina, e ripeto, tante volte è complicato, non è facile farlo, però chiaramente prima si inizia, meglio è. Quindi c'era questa, ripeto, quartina abbastanza attenta, accurata, riflessiva, su quello che era magari il momento catartico della morte e risoluzione del nostro Signore Gesù Cristo. Buonasera a tutti.